Asozialer Ho letto che Aso è l'acronimo di Asozialer, termine usato per indicare i detenuti nei campi di sterminio nazisti, definiti asociali. I campi di sterminio erano luoghi attrezzati allo scopo di sterminare nel più breve tempo possibile la maggior quantità di esseri umani, non solo ebrei, e di farne scomparire le tracce. I maggiori campi di sterminio erano fuori del territorio metropolitano del Reich, perché il governo non voleva informare i suoi sudditi di quella criminalità. Commento Anche i cittadini tedeschi che mentalmente erano inconsapevoli di quella criminalità ne erano responsabili, perché la loro comunità fisica aveva invocato di coscienza in milioni e milioni di persone quel governo.